Ciao! Allora, brevemente, volevo farvi vedere, volevo farvi sapere che non ci sarò per qualche giorno, sarò impegnata, non so se potrò mettere qualche video, lo spero, però sarò impegnata per qualche giorno, quindi non vi preoccupate, non mi è successo niente, sarò via, se magari vi preoccupate per me, se no niente, insomma. Comunque niente, volevo ricordare a tutte che ricordatevi, credo che giorno 30 sarà l'ultimo giorno per potersi, basta solamente iscriversi al mio channel e niente, giorno dopo, di giorno 30, insomma farò questa estrazione, vediamo, magari mi sogno i numeri la notte, vediamo che numero mi viene. Comunque, premi, fermaglio, il Purple White della nuova collezione di MAC, Style Warrior. Poi, 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 velocemente, volevo dirvi che io non so se in Italia c'è Allure Magazine, comunque, è uscito il Reader's Choice Awards e credo che sia fantastico, soprattutto, io non so se c'è in Italia, comunque, per le ragazze, ci sono ragazze italiane che sono qui in America, credo che sia fantastico, appunto, perché ci sono tutti nominati, tutti, no, questi migliori prodotti testati dalle elettrici, quindi, ve lo consiglio assolutamente, perché dà delle buone dritte, quindi, credo che sia tutto, a prestissimo, ciao!